Sindaco Maragno, l'ala più a destra del Consiglio Comunale sostiene che siano ancora migliaia gli immigrati qui nella città di Montesilvano, anche dopo la notizia che il Vice Sindaco ha dato che tutti gli alloggi erano quasi ormai evacuati. Montesilvano è un comune virtuoso sotto questo punto di vista perché negli ultimi anni abbiamo lavorato tantissimo per ripristinare il rispetto delle regole sul territorio e questo riguarda anche la presenza dei migranti. Avevamo 500 migranti ospitati nelle due strutture alberghiere della Rimino e del Celsior, abbiamo aderito al sistema Sprat che è il risultato del sistema più ambizioso a livello nazionale e ci è stato riconosciuto anche dal Lanci e dal Ministero degli Interni. Adesso le due strutture sono state chiuse perché i migranti sono stati trasferiti in altre strutture fuori dal territorio comunale. Oggi stiamo effettuando un'accoglienza di qualità, ci siamo aperti ai bambini, ci siamo aperti alle donne con bambini, alle famiglie e stiamo coinvolgendo in questo percorso gli extracomunitari, i profughi che aderiscono e che hanno lo status di rifugiato e che devono prestare gratuitamente la loro opera al servizio del comune di Montesilvano. Lo stanno facendo con grande impegno, non stanno creando nessun problema, anzi siamo riusciti a passare da una situazione di forte disagio sociale a una situazione che è diventata un modello a livello nazionale. È una polemica senza senso, è una polemica che assolutamente io non prendo in considerazione perché non esiste nella storia di Montesilvano un'amministrazione che ha fatto tanto per questa città. Ricordo soltanto che il 31 maggio del 2017 abbiamo sgomberato il ghetto di Via Riosto, era il ghetto più pericoloso, più allarmante dal punto di vista sociale di tutto quanto da brutto. Noi abbiamo risolto il problema alla radice, abbiamo sgomberato quegli immobili, abbiamo ridato dignità all'area del PP1 che è l'area di predio della città e i cittadini questo ce lo riconoscono quotidianamente.